Salute a tutti, bentornati ad Ippocrate, il diritto alla salute. In questo numero parleremo di code, di liste d'attesa. Il Veneto ha deciso di tenere aperti gli ambulatori ospedalieri fino a mezzanotte proprio per eliminare le liste d'attesa per tac e radiografie. Parleremo poi della situazione in una cinquantina di comuni laziali, rubinetti chiusi a causa di infiltrazioni da arsenico. Cosa provoca nell'organismo? La qualità e i controlli sull'acqua potabile. Ed ancora nasce la prima banca centralizzata del latte materno, accoglie quello donato, lo distribuisce poi in tutta Italia ai reparti di neonatologia che ne hanno bisogno per i prematuri. Ed infine, per quel che riguarda la salute dei nostri animali, quali sofferenze subiscono quelli chiusi in gabbia, ma qual è la vita totalmente diversa di quelli ospitati, per esempio, al Bioparco di Roma. Una delle cose che sicuramente fanno più arrabbiare i malati sono i lunghissimi tempi di attesa per ottenere un esame di laboratorio oppure una visita specialistica. Nel 2010, l'allora Ministro della Salute Fazio stabilì per legge che bisognava che le strutture pubbliche accordassero massimo 30 giorni per una visita e massimo 60 giorni per un esame di laboratorio. Purtroppo così non è in molte parti del Paese. In Veneto però pare che abbiano trovato una soluzione per eliminare del tutto le code. Benvenuto all'assessore regionale alla sanità del Veneto, il dottor Luca Colletto. Benvenuto ad Ippocrate. Salve, salve. Per capire di che cosa stiamo parlando, vediamo questi dati che ha prodotto Pit Salute del Tribunale dei Diritti del Malato. Lo scorso anno, vedete, le liste d'attesa in Italia erano, questi sono solo degli esempi, 300 giorni a Bari per avere una gastroscopia, 210 giorni a Torino per avere un'ecografia all'addome, mentre al Niguarda di Milano lo stesso esame correva aspettare 323 giorni, 243 giorni all'asla di Di Roma per un'attacca alla testa e 148 giorni all'asla di Viterbo per ottenere un'ecografia ostetrica, il che naturalmente voleva dire che il bambino era bello che è nato prima di fare quell'esame. Allora, assessore Colletto, com'è la situazione lì in Veneto? Ma guardi, anche da noi c'è da aspettare, però nel rispetto di quello che è il decreto Fazio la verifica dice che la tempistica è soddisfatta al 90-92%. Abbiamo questo margine che va dal 10 al 7% ancora da soddisfare e conteremmo di dare una bella spinta alle liste d'attesa proprio con questo provvedimento. Ed infatti che cosa avete deciso di fare lì in Veneto? Abbiamo messo insieme il budget dedicato ai medici ospedalieri per l'intramenia e dall'altra parte il provvedimento che andava a definire la tempistica. Facendo un ragionamento molto terra a terra dell'uomo di strada risulta più semplice andare in ospedale senza perdere ore di lavoro, senza perdere giornate di lavoro, senza prendere, come dire, dei permessi durante le ore tardo-pomeridiane, serali, piuttosto che di sabato-domenica. Ovvero, voi avete deciso che tenete gli ambulatori ospedalieri, soprattutto quelli che fanno esami radiologici, quindi la TAC, risonanza magnetica, le stesse radiografie, aperti fino a sera tarda, addirittura fino a mezzanotte. Sì, il provvedimento dice sostanzialmente che l'apparecchiatura, in genere sono apparecchiature che costano molto, costano milioni, devono lavorare almeno 12 ore al giorno e questo ha anche un vantaggio dal punto di vista economico. Più l'apparecchiatura lavora, prima si ammortizza. Una delle aziende USL del Veneto è partita ancora in febbraio con questo provvedimento in via sperimentale e in questi due mesi è riuscita ad evadere 450 visite in più rispetto all'anno scorso quando si faceva solo l'orario diurno. Quindi è un buon risultato. Senta, assessore, il cittadino può esprimere la propria preferenza? Quasi quasi verrei alle 11 di sera invece che alle 2 del pomeriggio? Sicuramente sì, noi abbiamo un cup unico aziendale, ogni USL è il proprio cup di prenotazione, si accede per via telefonica piuttosto che informatica, quindi si può scegliere l'orario e questo cup, questo centro unico di prenotazione mette insieme anche i convenzionati privati, quindi c'è ampia possibilità di scelta, ampio aspetto di scelta. Grazie, assessore. Grazie, assessore. Arrivederci.